ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale wrestling eccoci per la nuovissima puntata di ghost runner ancora non ho desistito e continuiamo la nostra disavventura in questo mondo cibernetico subito e che è successo si è impazzito bene nell'ultimo episodio ho sconfitto il primo boss che è stato per me alquanto complicato era da scalare diciamo non lo so c'era praticamente questa cosa al centro che girava e ci sono tutti quanti i raggi laser e io il cliente doveva arrivare fino in cima e tagliare delle dei cavi elettrici diciamo che teneva in vita questo hub centrale e bisogna farlo per tre volte e che vuoi lo dica fa andiamo avanti ora siamo all'aria aperta bello ma si attacca con la mano direttamente oh e che è successo ah lo posso direzionare gaiato a next goal is the repository the data archive donna store knowledge about the world before the burst questo scenario è fantastico se non è un'altra documentazione oh e che è successo con la postura solo su quello che era già in sviluppo l'era bene non gli piace cominciamo bene dove vado? ah si va bene procedi verso il magazzino va bene se ci arriverò probabilmente ci arriverò ma fra una settimana ma perché non lo prendi? perché mi salta quando lo dico io? come lo dico io? perché lo dico io? ci sta qua l'ammazzante? nessuno ah ci sta quell'essere grande è che cos'è? come è? come è? come è? si ragazzi adesso si vola pure spettacolare non c'è niente a fare questo gioco è spettacolare chi è? ciao amica re si è giallo noo mi ha accoppato lui questo essere questo essere io non so nemmeno come ho fatto questo pezzo io me ne vado cos'è che c'è? scusa eh tiè mica mi sparano da qua eh si di là ma stai a vedere quelli? nooo è calda una settimana allora di qua devo andare non si sa che sto a fa' guarda dove si è messo il balordo dai oh è sempre lui che mi frega niente non ci riesco più ho fatto una cosa che era spettacolare ma non si ne va non me ne posso andare via e ok e andiamo e vai così hai avuto il tuo plan per attaccare la città sì fino a oggi pensi che eravamo pronti cosa eravamo aspettando? tu no tu pensi che una volta che avvicinati ci guidaravamo alla vittoria aiutiamo a ridurre e a ridurre l'architecto non toccato chi è io? ma non ho già visto ma che è davvero? non so se è andato bene ah c'era e che cos'è? oddio mi sono perso per strada che cos'era quella roba lì strana? si vabbè c'era un altro posto da andato ah io sono gol da qua così tanto bene ma là sotto c'è qualcosa ah ecco bene bene ho capito quindi qual'è il tuo pleno di derrotare il Keymaster? mi chiede la prima volta che l'hai confrontato eri uno di 100 Ghostrunners come lo sai? mio padre ero solo due quando il coup si è arrivato ma mi ha detto tutto così molti morti con tutti i Ghostrunners fuori non c'era nessuno per proteggere e quindi? oh ho spostato pure quello ma se possono tagliar sti cosi? ah 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 eh ma non ce l'erro mai lì eh ma non ce l'erro mai lì sì ciao eh ok questo l'ho mosso ah 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 è moco more ah ecco sì certo andiamo indietro andiamo indietro e perché? va bene comunque anche se non l'ho capito ma va bene comunque ehi ehi sì sì io finchè posso scappare finchè posso me ne vado sì quando vado? posso posso? sì è però facendo così e che manca boh? e manca quello? e se quando io la faccio? sì beh 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 ma dove devo andare? punto intero che arrivo? punto intero che arrivo? eeeh ah beh beh qua magari un po' più in alto no 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 non li deve accoppare non 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 Quindi non stopi anche se uno di voi è morto? Sì! Sento come ti senti Guardate qua Non mi è piaciuta E però spara Non ci impiegare una settimana Potrei fare così Non c'è più? Proviamo un po' Vediamo un po' se li fai avancio Eh sì, l'allero Sono troppo E' un po' se li fai avancio Eh ma come dice a riuscire? Non mi avevo capito io, sai? Non mi ha capito Nooo Sì, ciao Guarda quel coso Come ti permetti? Nooo 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 Che cosa sta? Nooo Mi ha coppato questo Ho sparato a rizzica La vedo complicata Andiamo Mamma mia Sì, ciao C'è in bocca I zammello Eh, vabbè Get ready No, perché? Mi sono avuto accoppato Ma sapete qua? Scusate, ancora non ce l'ho provato Però potrebbe essere un'alternativa, vai No, esatto, no Mi accoppolo subito Ah, c'è quello là sopra Che io non ho visto Guarda che mi accoppa sicuro Guarda come mi accoppa questo Eh, andiamo Ragazzi Dharma City 15 minuti e 59 secondi 46 morti Bene, bene Bene, bene Bella la città Mi è piaciuta Questo scenario E' una mazza Veramente figo Eh, bisognava girare a sinistra Invece io andavo sempre dritto Invece dovevamo girare a sinistra E questo chi è? E' un ninja C'avevamo con furore, mo Eh, sì Ci manca pure E come c'è l'idea? Ho perso l'istalla Sì, vabbè, ok Ok Sei bravo Sei forte Non ce l'ho capito niente Ah, qui c'avevamo i ninja con furore Ah, è tutta questione di tempismo Che io non ho Beh Ce la possiamo fare Non mi fa nessun effetto La cosa qua Ah, ce l'avevo Ah, vai E andiamo su Capito, sì Qui dei ninja ce n'è solo uno Tutto il resto so Nessuno Era così? Ah, sì Chiudeci Come un attimo I keep putting out calls for help, but no one is answering me I don't care if I'm the lastdi or lastdi I'm not gonna quit I'll keep helping you no matter what Whatever we have to do, we'll do Rebuild the rebellion from the Rebuild the rebellion from the ground up se dobbiamo bene e andiamo che salta non era chi ci trovo qui? ah ce so quante vie ci stanno? 25 vie si ciao non guai perchè? infatti non lo so nemmeno io perchè? la ce ne stanno tipo 50 ma è davvero? no devo prima togli quello che spara e a chi ha sparato? cioè non a chi ha beccato nessuno c'è roba sporcavola ma perchè mi spara? allora dobbiamo andare qua io voglio che mi spara perchè non ci arrivi? nooo posso usare il Q perchè non uso il Q il Q andiamo da qua usiamo il Q va no ah sono due che sparano una a destra e una a sinistra che ti pareva? la facevo una facile e dove sta? non c'è sto a capire niente io ho spingaruzzi che invece devo fare una cosa fatta bene è solo che mi aveva l'ansia da prestazione si ciao questi cosi guardi che pure i samurai ci volevano non bastava perchè non l'ha ammazzato? non bastava solo il coso no? quelli che te sparavano andamooo so passato? nooo ragazzi spettacolare non so neanche io come ho fatto madre ma non dovrebbe scivolare? ah no scivola quando spingo questo? no qui c'è sta qua? si poi vi faccio venire qua è rimasto quello solo uno? due? quanti ce ne stanno? non mi vuoi aspettare lui non mi vuoi aspettare lui eh ho capito però non si ricarica qua a milkere e andiamo? eh e andiamo? eh è così quieto qui hai detto che c'è un curfew sì, ma è più che quello anche in base, anche in luci anche dopo le luci puoi ancora sentire la macchiniera pesante fattoria erogo prima cosa non è mai qua non riesci a poter utilizzare il mio potere per quale motivo? ho spinto tipo 18 pulsanti e mi ha impallato tutto Eh, c'è Fammo sì Quanti so? 25.000 Eh, ho capito, non c'ho più Come faccio? Senza mia Ho capito Perché non c'ho più Ciao Nooo That was a bit weirdo Nooo Non va affatto bene Non ho capito Sarà che ho spinto 250 pulsanti You don't talk much, huh? Still, it's good to hear your voice I've been trying to make it happen for a year Thank you Words only dull ideas A mind as sharp as a blade Has little to gain from idle chatter Oddio, me vado Chi è che mi ha sparato? Ah, c'è pure un coso là Un bipode Però non capisco del quale motivo Madonna santa Eh, quello che son qui Non capisco del quale Non capisco del quale Ho capito ma io non c'ho più la cosa per rallentarlo Ma com'è possibile? Quindi? Nooo Ho capito io non so che fa Non capisco perchè non c'ho più la... Nooo In qualche modo ce l'ho fatta come prima Eh si certo Ma quanti soldi? No Ma prima da questo è meglio Perchè non aspetto e c'ho l'ansia da prestazione? Perchè non c'è Ecco così Nooo Era opio Nooo 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 Oh Oh Edda Yeah Si Ciao Capito? E' troppo veloce Come faccio senza... Rallentamento di tempo Fiamo così? E che te devo dire? Pathetic! Questi non sono soldi o sicurezza Sono solo banditi Almeno meglio armati Che i quelli di prima Si già... Non lo so nado Che frate? No Non ho capito Non ho capito Come faccio? Senza... ho capito devo andare prima della si vabbè dai sto provando perchè voglio capire ma perchè non mi vedà si vabbè c'ho dei seri problemi con madre ce l'avemmo fatta si ciao e quindi mo che ho fatto tutto senza tutto senza il rallentamento del tempo che non so per quale motivo lui mi ha deciso che non lo devo più utilizzare chi è? questo facciamo fuori? no facciamo fuori quell'altro si vabbè allora c'è sta non riesco a capire perchè allora per l'allentario non c'è ma per fare questo esiste sì E ho capito come... Cioè io sto facendo tutto senza... Ah ecco, mi sembrava un po' bello. Ma chi? All'insegno? Ah, c'è qualcuno! Che non ho visto. Facciamo così. E tanto avrete capito che ormai, come ho detto, non ci sono più. Ma non ci staccami niente. Fammi vedere qua chi ci sta. Oh! Ok. 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 Vabbè. Okabe. Dai. Vieni da papà. Allora, di là. questa cosa è allucinante che non c'ho più un e mica pensiamo pure il cecchino ce l'avemo qua io quando ci arrivo là sotto secondo voi eh, c'è l'ulte di scadola in un quarto l'ora Dharma è full of technology that is all too vulnerable to accidental destruction with a blade there are no stray bullets no shockwaves no collateral damage not to mention how crude those guns are compared to your tools you are fully equipped to deal with every manner of projectile you've never been in a fight of course not of course not eh, ci sono dei seri problemi ragazzi non so che dirvi il livello non funziona più eh, il livello, il... ah, questo mi spara sempre bene sì, ciao fino a dove arriva? ah, un... ah, un... ah, un... ah, un... ah, un'altra ah, un'altra 20 anni di rispetto e no progresso tecnologico per denunciare Ah, a questo punto, il regime Moro... A questo punto, il regime Moro sarà fallo a Rebensi in una decada o due. Uno è armato con sticci e stoni. C'è un'attività vicino al repositorio. Ecco, che ti avremmo. Non posso dire cosa sta succedendo, ma c'è un'attività nel network. C'è un tipo di attività. C'è un campo di interferenza che muove la distruttura. I sistemi sottotitoli sono riusciti. C'è un tipo di spazio? Più come un dispositivo di spazio. Ma perché le chiave sottotitano le loro camere? Ah, dovrei arrivare là sopra. E come ci arrivo? Tutto interrogativo. Sono un po' qua. Così, intanto perché volevo provare le prezze di buttarmi nel vuoto. Ok, là abbiamo quello per agganciarsi. Ah. Facciamo cuore? Bello, non si si. Una mossa veramente intelligente. Ah, sì. Eccolo là. E niente, io non c'ho più... Un po' qui. Ok, ora... Sì. E quindi... Ah, dovrei salir là sopra. E come faccio? Sì. Diccio. E quindi... Ah, dovrei salir là sopra. E come faccio? Sì. ah ah forse devo fare andiamo finalmente andiamo qui ah si qui tutto così si ciao non penso che io devo andare di là o forse si non penso che devo andare di là no vabbè ragazzi diventa impossibile ah 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 E non gliel'ho fatta Se ha ciò che bisogna, è il nostro ultimo stop per il lab di Marl Finito Dai, abbiamo finito anche questa ragazzi Ah no Oddio Questo, per proteggere un archivio pubblico Il sapere è potere E l'informazione che dopo era niente ma il pubblico Ok, sì, perfetto Ah, lo sapevo io Tanto qui è incominciato a capo Sempre e comunque Non riesco ad accentuarlo Forse devo aspettare Forse devo aspettare che se si gira completamente Sensation Allora questo Questo ok Perfetto Questo non si gira Perfetto Perfetto Poi dov'è Perfetto Ah, ecco qua Quindi Purtroppo Faccio fatica Pure in questi platform Allora Non ci ho collegate le cuffie In non c'erroppo In non c'erroppo In non c'erroppo Forse sto registrando Non lo so Dunque questo, dopo l'erroppo fa 250 tagli, ho portato pure prima un ultimo mezz'ora a smartphone map fortissimo. Ok, quindi vado di qua, no, ma perché salto? Prima o poi lo capirò? Fino a qua penso che tutto, no, fila liscio come l'olio. Ora, gira. Eccolo. Ah, eccolo. Il progetto GR ha iniziato come un contratto militario e è finito essere il nostro più ambitioso intervento. Poi. Dove mi ha fatto ricominciare? Oddio, 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 oddio. No, vabbè. Rimani fermo, non ti muovere. Ok, bravo. Fino a lì? Ah, ok, quindi devo andare lì. È veloce però. Ah! Ah, sono andato oltre? No. Quindi adesso vado lì e poi mi fermo. Ah, ecco. Bene. Vabbè, sì, dai. E allora? Mi sembra che manca qualcosa? Sì, questo. Mara si è parte nel processo di design. No, è pure quello. Ho detto che siamo associati. Ah, me ne mancano tre. Ah, sì, l'allero. Ciao, Romai. No, me ne mancano di più. Sette e tre. È vero, è arrivato a 13. Oh. Guarda come c'era. Curi, 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 curi. Ciao? No. Non è ciao. E ora sarà ciao, però. 6 su 13. No, mi ha fatto ricominciare a capo. Che valore. Ah, no, da qua. Io aspetterei... Qua, perfetto. No. No. Mi vorrei che forse devo andare lì. No. No, aspetta un attimo. Forse è qui. E vado lì sopra. E mi fio dentro a quel cubo. Forse è qui. No, ma perché? Ah, ok. Qui è adesso. È così. Ok. Gira. Quindi... Vado adesso? No. Però c'è quello giù. Andavo a vedere se c'era... Allora, vado qui. E scendo giù. Ok. Non c'è niente. Lì, quello lì. Ah, ecco qua. E mo? Purca. C'è lui. Salvo qui. Aspetto qui. Eh, no, mo c'è questo qua davanti. Eh, ma qui già ci sono stato. Vabbè, tornavo indietro. Sì, perché davanti ce ne stavano due. Eccolo là. Strangelo. È gone. Uh. Il dato non è là. Ma il server è intatto. Non possibile. Se l'interferenza da prima era... È dopo. Wow. Ce n'ho un altro che sta là davanti. Uh. Wow. Sta tipo qua. Uh. Mi ne rimanca uno, ragazzi. È che quello che sta là quando gira. Aspetto, va. Meno che non era quello che stava qui. No. No? Allora è quello che sta lì a sinistra? Sì. Oddio. No. Oddio stavo. Oh, rotodo. Mo sta tipo là a sinistra. Mica lo vedo, sa? Eccolo. Uh. Bene. Echi... Echi... 26 minuti? Mica Echi, spero. Bene, ragazzi. Allora, diciamo che questo livello non è stato proprio difficilissimo. Per fortuna. Eh... Però è stato... È stato... Figo pure questo. Mi piace. Quindi adesso vediamo un po' che cosa ci riserverà Cyberpunk. Sono nuovi miglioramenti. Bene, i nuovi miglioramenti li vedremo poi in un secondo momento. Sì. Bene. Bene, ragazzi. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al canale Restring. Ciao e alla prossima! Ciao! Ciao! ! ! Ciao! ! ! Ciao! ! ! Grazie.